ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono Alex Zio e oggi volevo dirvi tutte le informazioni sul raduno che avevo promesso innanzitutto vi ringrazio per i 200 iscritti perché li abbiamo raggiunti ieri e ieri pomeriggio abbiamo fatto una prova del raduno tutti insieme a voi innanzitutto volevo ringraziare tutti gli amici, tutti i fan, gli amici che hanno partecipato ieri a giocare con me non mi ricordo tutti i nomi ma se non mi sbaglio c'era Sassianto, Momesanna, Lucane, Alice Pesca, BossCree, Fantasy, Assassin's Creed non mi ricordo tutti i numeri che ci hanno dato ringrazio tutte queste persone perché ieri l'avete fatto divertire ed è stato veramente un piacere giocare con voi anche se c'era un po' di casino però mi sono divertito molto abbiamo fatto gare, litmesh insieme, tutte queste cose qui ragazzi il raduno si farà martedì 2 dicembre verso le 5 di pomeriggio, 5 e mezza perché io sono libero e posso giocare insieme a voi non so voi se ci siete però volevo dirvi chi vuole partecipare innanzitutto deve rispettare questi requisiti deve essere iscritto al canale, mettere mi piace a questo video, condividere il video e dovete scrivere nei commenti partecipo così posso sapere tutte le persone che partecipano veramente, che ci sono veramente a questo raduno quindi ragazzi martedì 2 dicembre alle 5 di pomeriggio, 5 e mezza ragazzi per il raduno, per partecipare al raduno dovete avere la mia più attiva oppure chi non c'è dovrebbe entrare nella mia crew e fare richiesta io ve lo accetto subito come sempre dovete entrare come ho detto nella crew e renderla attiva assolutamente perché chi non è nella mia crew oppure è ma non c'è l'attiva non lo inviterò proprio comunque verso le 5 di martedì andrò su PSN e inviterò tutti i guidi della crew in sessione ragazzi voi come ho detto prima scrivetemi nei commenti partecipo per chi ci sarà veramente, se superiamo i 16 e come sapete la sessione è in massimo 16 persone inviterò tutti chi entra entra, questo è se facciamo le gare, i dit match e tutte le attività poi se ci dividiamo inviterò altri comunque cercherò di invitare tutti quelli della crew il prima possibile e chi entra entra, non posso stare lì a cervellarmi per chi non è entrato perché c'è davvero un macello quindi volevo stare un po' più calmo ragazzi inviteremo sia io che Alex Pesca, il vice capo della crew che lui sta facendo un grande lavoro infatti se non avete letto ieri ha messo un post con tutte le regole da rispettare nella crew e ragazzi volevo anche dirvi che nel raduno faremo delle attività e ci sarà anche un vincitore perché forse faremo un elenco partite il vincitore chiaramente chi sarà un rango minore e non ha la minigun vincerà una minigun platino che darà Alex Pesca visto che lui c'è i big money e ragazzi ho detto tutto quindi ci vediamo martedì alle 5, 5 e mezza martedì 2 tutti i suoi PSN per divertirci e fare tutte le attività insieme possibili quindi ricordatevi lasciare un like al video iscrivetevi al canale commentate con scritto partecipo perché così vedrò subito chi invitare i sicuri le persone sicure da evitare e andate a iscrivervi nella crew così vi accetterò subito l'invito oppure lo accetterò a Alex Pesca quindi ragazzi vi ringrazio da morire per questi 200 iscritti ovviamente il raduno sarà registrato e non so poi quando uscirà perché comunque devo evitarlo quindi grazie mille ancora per i 200 iscritti da Alex si è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi